ci siamo siamo live 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 benvenuti venerdì 17 aprile 2020 sempre sempre in pandemia sempre così sempre in quarantena abbiamo sempre il nostro toxic city che ci accompagna ormai l'abbiamo messo come per il settore pokémon per i video pokémon ci accompagna ho scoperto sul sito ansia.it che ci sono o ansia.it secondo ci sono due paesi in cui ci sono zero contagi il regno dell'esoto e le isole comore sono scoperto poi tra le altre cose che gli abitanti dell'esoto l'etnia sono il basotto che si dice due etnie principali il basotto del nord e il basotto diciamo hanno solo quel cane una sola razza il basotto poi se siete a parlare di un certo franco dell'ecomore franco dell'ecomore in realtà non è un signore di nome franco ma è la valuta dell'isola dell'isola comore ecco bene mi ha fatto questo momento di super park e oggi siamo qua volevo sbustare adesso arriva Piero e ti picchia Piero Angela ok ciao Piero tutto bene Alberto adesso c'è ciao Alberto ciao Piero ciao Alberto c'è qualcun altro una cosa la famiglia doveva essere finito era un figlio anche Alberto no se qualcuno sa se c'è un terzo un terzo Angela Piero Angela lo scrive cortesemente nei commenti un angelo Angela magari io oggi volevo aprire la nomità che è arrivata oggi ma mi sono ricordato che c'erano ancora le team da aprire quindi ci sbustiamo i team e poi nel prossimo video ci apriamo le collezioni poteriamo gli altri finalmente arrivati bene 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 eccoci qua e allora ciac si sbusta siamo pronti siamo ready siamo caldi siamo che c'è la signorina di alla regia di Instagram stavo scegliendo la mia team la team adesso adesso con carla tanto è come so come l'altra volta io scelgo quella è a posto attenzione attenzione pop e 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 team set primavera 2020 ciac si sbusta andiamo mando ormai siamo coordinatissimi basta ormai bene bene allora io mi scelgo in 3 ore poi signor eric rile bombastic very fantastic perfetto cinderace for the signorina come da regia di Instagram che c'è? no mi cambi cinderace con enteleon? no voglio enteleon io cosa che vuoi? enteleon enteleon? non c'è enteleon cioè enteleon se vuoi ma enteleon è un altro ma adesso non c'è un'altra cosa facciamo il cambio? si sarà meglio va bene grazie allora cinderace interleon e robombastic una cosa vorrei ricordare a tutti coloro che ci seguono ci fanno gli acquisti grazie per tutti gli acquisti che collezionano Pokémon le sleeve per Pokémon sono quelle in formato standard che sono 66x91 ci sono chiaramente anche quelle ufficiali tipo quelle della Great Ball ma ce ne sono anche altre però sono le standard mi raccomando segnatevelo di non acquistare quelle small o mini o Japanese size che dir si voglia perché non vanno bene allo stesso modo se fate magic collezionare i giochi di magic vanno sempre bene in formato lo stesso se invece collezionati Yu-Gi-Oh oltre a Pokémon ci servono le sleeve più piccole le small le small bene 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 Chuck's is Busta partiamo con la teen scelta dalla signorina della regia di Instagram vediamo le teen italiche cosa contengono evoluzioni mi sa di no magari eh guardiani nascenti guardiani nascenti io punto su guardiani nascenti guardiani nascenti mi sa di sì va bene adesso vediamo vediamo subito vediamo sull'azione SID RACE di Boston con la carta promo Blackstar Sword and Shield scudo e spada o spada e scudo che forse è meglio la numero 15 15 15 contiene la scatolina oltre alla carta promo abbiamo due booster di scudo e spada un eclessi cosmico e un tono di perduti tanta roba bomba bombastic possiamo giocare insomma eh sì ragazzi che figata che figata di boost e voilà poi 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 andiamo con la finca bella inteleon V inteleon V Pro Blackstar scudo e spada spada e scudo sorry numero 16 numero 16 e le bustine sono sempre loro due scudo e spada un'eclissi cosmica e un tono di perduti e sempre spada e scudo no no chissà se entro la fine del ciclo sono tre anni del ciclo di di scudo e spada non del ciclo di un altro ciclo e ce la farò attenzione spada e scudo due bustine eclissi cosmica tuoni perduti qua per non sbagliare ho letto prima su e vabbè bisogna usare qualche piccolo trucchetto bene bene e allora attenzione facciamo spazio qui bravissima brava la signorina della regia di Instagram che cosa mi sto facendo che c'è un disastro come è al solito i codici seguiteci nelle stories di Instagram tutti i giorni o quasi tutti i giorni allora io ci provo tutti i giorni a regalarvi un codice se non ve lo regalo è perché mi dimentico però l'obiettivo è tutti i giorni adesso ho instaurato una piccola rubricchina che c'è ogni mattina dopo la pagina del calendario c'è il good morning code quindi ogni mattina c'è un codice per voi quindi tutto l'anno good morning code good morning code quindi ogni mattina ve lo do ogni mattina salvo che mi dimentico però mi sto impedendo molto tanto e fino ad oggi non mi sono ancora dimenticato quindi forza boss dai bene ragazzi allora Chuck's and Booster con tuoi imperduti allora partiamo con la bustina di boss vi ricordo che la signorina della regia di Instagram ha scelto ha scelto di cambiare di cambiare io non l'ho rifatto guarda dai dove ha scelto attenzione tu l'hai perduti fantastico spettro targa reverso è una bella premarina dopo Franca e ancora Claudia poi bisogna dire qualche giusto signorino per mettere sul qualche 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 attenzione questa è la mia è quella di boss secco eh attenzione RALSEY 906 eh bene finora ho fatto bene finora finora ottima scelta devo dire ottima scelta tu da casa commentaci mi raccomando e attenzione continuiamo signor Eric con Rita Boombastic very fantastic and skidoo and attenzione Blessey olografico bene 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 poi diamo un codice agli amici di Instagram su amici di Instagram ti regaliamo questo bel codice poi uno lo daremo anche agli amici del tubo perché un po' di parcondizio per esempio se troviamo qua in Ecclesi Cosmica una cartina interessantina di quelle sbrillose sbrillose lo regoliamo al codice attenzione boss Yagmo oh 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 and Kray Dilly ma boss punta tutto su spada e scudo se si punta punta te ho allungato ancora l'occhio per lo sbagliare come se questi in te leon attenzione attenzione Evie pietra ultra creatura bella bella mi piace è un Krabominable il pokemon delle nevi una bella bella la bambola la bambolina che fa no 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 di una bambolina fa no 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 come cantava chi chi su su patti patti bravo attenzione un saluto la signorina patti anche la signorina bravo wubat and silveleo silve silva boom silva boom attenzione uuuuh c'è cincino bella forte cincino buona rara obstacle buona foie comunque dai attenzione vediamo se la signorina della regia di instagram fino adesso ha fatto un'ottima scelta vediamo se continuerà oppure no cloyster e attenzione snorlax poi quanto manca signorina un minuto un minuto su instagram allora vi salutiamo tra poco questa busta e no ci facciamo 30 salute attenzione wulu e nientals cerchiamo di velocizzare per instagram quanto manca quanto manca su quattro stoni scusa 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 ce la facciamo tre bustine perché a instagram abbiamo 10 minuti cin cino e niente niente boss ha pompato la grande la signorina cameraman ha capito tutto in anticipo attenzione clay doll sandaconda ultima bustina poi salutiamo instagram mentre chiudiamo qua sul tubo attenzione snorlax che bello che è che bello and more peco niente le buste di spada scudo l'ho fatto veramente goodbye da instagram goodbye ed eccoci qua col tubo a chiudere questo video di bustine si ho vinto ha vinto la signorina della regia di instagram abbiamo su 12 bustine e mi è entrato un nantes di alola potevamo ce la lasciamo chiusere le bustine forse era meglio però è pazienza siamo qua anche per divertirci con noi con voi con tutti condividi il video iscriviti a youtube youtube no a instagram a instagram un codice per instagram però lo voglio andare e certo per il tubo lo abbiamo promesso eccolo qua signor eric fatto benissimo ale poi li vendiamo anche sul sito lpbcolletti.it e li regaliamo su instagram tutti i giorni every day e intanto la signorina della regia di instagram sta facendo le pose del calendario per 2021 con la sua bicicletta e niente ci vediamo al prossimo video appena trovo il chuck il saluto ci vuole sempre con chuck intanto bene 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 e allora da boss dalla signorina della regia di instagram che sta facendo dei numeri strani e dalla signora eric è tutto ci vediamo alla prossima chuck good boy ciao ragazzi ciao